Vi conviene fermarmi, credetemi, non ci sono locande per altre cento miglia da qui. Proseguiamo, Alex. Che cosa vuoi? Guarda, padrone. Sono tutti strani in questa casa. Potrò finalmente diventare una vera moglie per te. Non puoi abbandonarmi. Non ti ho mai abbandonato. Guardate. Lasciatemi! Lasciatemi! No! Dovete pur riconoscere, inspeccorre, che disparizioni ce ne sono state molte e che di tutte le ragazze sparite nel circondario non se ne è saputo più nulla. No! 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 Grazie.